Salve a tutti, sono Marvin e benvenuti alla nuova puntata dell'offerta settimana di Bevingrosso.it, il tuo sito online dove puoi acquistare la tua fornitura di bevande. Siamo pronti per una serie di offerte molto alcoliche questa settimana, valide fino a domenica 25 ottobre. Partiamo subito con un marchio famoso di brandy italiano, Brandy Vecchia Romagna Etichetta Nera, una bottiglia importante e un liquore dal gusto intenso e caratterizzato dall'aroma di cioccolato e dal caffè. Ve lo offriamo nel formato classico CL70 al prezzo di 9,75€. Passiamo ora ad un room invecchiato due anni e appartenendo ad un marchio che non ha bisogno di presentazioni, Pampereo Aneio Special da Litro, l'oro alcolico del Venezuela al prezzo di 10,57€. Ed ora due vini d'eccezione provenienti dal nord Italia. Il primo è un Tutti di Piemonte Doc Cortese, un bianco vivace e fruttato, adatto al consumo quotidiano. Il suo prezzo è di 2,85€ per la bottiglia da litro. Ci trasferiamo poi nel Val d'Obbiadene con le cantine Canella ed il suo premiato Prosecco DOCG CL75, un bellissimato brut dal grande gusto frizzantino, offerto a voi prezzo di 5,52€. Ed eccoci alla nostra distesa di birra Corona, pronta per voi nei canonici cartoni da 24 bottiglie CL33. Una birra che si lascia gustare in qualsiasi momento della giornata. Il prezzo che vi proponiamo è di 22,96€ per cartone. Non può mancare un'offerta con gli omaggi questa settimana. Bevingrosso.it dedica uno spazio alle bibite San Pellegrino. Cocktail, chinotto, aranciata, amara e dolce. Bottigliette da 20 cedilitri in cartoni da 24 che noi vi offriamo al prezzo di 9,52€. E se acquistate 4 cartoni avrete un pacco di bicchieri Graniti CL35 ed un kit espositore. Omaggi da non perdere insieme alle bollicine San Pellegrino. E proprio con le bollicine chiudiamo questa puntata dedicata alle offerte della settimana di Bevingrosso.it. Iscrivetevi ed ordinate sul sito per acquistare subito il vostro prodotto. Un saluto e alla prossima settimana con le nuove regionale. Grazie a tutti.